E sveglia risponde sì o no, sì o no. Emergenza, di cosa ha bisogno? Ok, rimanga lì da con me, non abbiamo la chiamata. Oltre un milione e mezzo di chiamati come queste, dall'inaugurazione nel dicembre 2020 al 30 ottobre scorso, un bacino di 4 milioni e mezzo di utenti sono i numeri della centrale unica regionale del 112, il numero delle emergenze che sta per tagliare il traguardo del primo anno dall'attivazione. Alla centrale Fiore all'Occhiello per tecnologie e professionalità ha fatto visita il capo della protezione civile Fabrizio Curcio accompagnato dal presidente della regione Eugenio Gianni. Un anno del 112 dopo 30 anni di direttiva europea che in qualche modo obbligava il paese a trovare questa forma di sinergia. Credo che la rete che si è immaginata in Italia sia una rete di grande tecnologia, di grande prospettiva e si omogenizzano a livello nazionale quelle che sono procedure territoriali. Quindi questo forse è l'elemento più importante. Senza toccare le competenze di ogni amministrazione c'è proprio la condivisione del dato e l'ottimizzazione del dato e dell'informazione sfruttando anche quello che la tecnologia oggi ci mette a disposizione. Una visita che è stata anche l'occasione dopo la fase acuta della pandemia di ritrovarsi in presenza con tutti i direttori delle CUR d'Italia nel capoluogo toscano. Già oggi, a quasi un anno dalla sua attivazione, la centrale unica regionale del 112 è un esempio virtuoso e positivo di condivisione integrata degli strumenti e delle informazioni. La nostra struttura, questa nuova esperienza che appunto ci ha portato a definire un centro unico di risposta con lo smistamento poi della telefonata che può riguardare questioni sanitarie, questioni di protezione civile, un evento calamitoso. Ecco che sia un modello che sta seguendo quella volontà di innovazione che la protezione civile a livello nazionale sta mettendo in campo in un giusto equilibrio fra le regioni e appunto la necessità di centralizzare e dare risposte efficienti e immediate attraverso il Dipartimento. La benedizione del capo di Dipartimento Curcio e siamo molto felici che sia tornato in Toscana perché questo sottolinea un rapporto importante che la protezione civile toscana ha con il Dipartimento nazionale. Il progetto toscano è già in corso, stiamo lavorando insieme anche alle associazioni di volontariato, alla ristrutturazione del sistema di protezione civile in un'ottica più innovativa, più moderna, più contemporanea e più integrata. E c'è un altro importante passo avanti in Toscana al via da oggi, la localizzazione della richiesta di intervento tramite il cellulare del chiamante, per adesso solo con sistema operativo IOS. Le prime a sperimentarla sono la Toscana e la Lombardia, nei prossimi mesi sarà estesa anche agli altri sistemi operativi in tutte le regioni d'Italia. Con oggi parte un servizio di localizzazione automatica del chiamante che consente una localizzazione puntuale anche in chi utilizzi un cellulare. È una localizzazione che fino a fine anno funzionerà con i dispositivi Apple, ma rappresenta realmente una grandissima novità soprattutto per la sicurezza del cittadino toscano.